Benvenuti a questa lezione del corso di visualizzazione di informazione quantitativa. L'obiettivo è quello di capire che cos'è una misura e quali sono le basi per effettuare una misurazione. Perché? Perché sostanzialmente le misure sono il punto di partenza per raccogliere i dati che di solito vengono mostrati in una visualizzazione. Che cos'è la misura? O meglio, la misurazione, l'atto di raccogliere delle misure, è un processo che in maniera empirica e oggettiva assegna dei valori a delle entità per caratterizzare degli attributi o caratteristiche o proprietà di queste entità. Quindi in questa definizione abbiamo alcuni elementi fondamentali. Abbiamo innanzitutto l'aspetto che il processo deve essere obiettivo, si basa su dati che possiamo riscontrare praticamente, si applica delle entità che quindi sono dei elementi che noi vogliamo andare a descrivere e servono per caratterizzare un attributo di queste entità. Quindi le entità possono essere concetti astratti, oggetti fisici, persone, quello che vogliamo. Gli attributi sono caratteristiche che noi vogliamo andare a caratterizzare con una misura. Misura che viene assegnata tramite un processo ben definito in maniera oggettiva. È importante andare a distinguere tra due concetti importanti che sono quelli di costrutto e di misura. Il costrutto è molto spesso un concetto astratto che indica un aspetto che noi potremmo osservare. Spesso i costrutti sono ambigui, potenzialmente non ben definiti e possono essere complessi. Immaginate che so, la ricchezza di una nazione può essere misurata in tantissimi modi. Il benessere delle persone, anche esso, è un costrutto a cui dobbiamo far corrispondere, per poter effettuare delle misure effettive, dei costrutti che chiamiamo operazionali pratici, che quindi hanno una precisa definizione e hanno una chiara procedura di misura. Come funziona la misurazione? Lo possiamo vedere in questo diagramma, che è preso da uno standard dell'Eye3E sulla misurazione del software, e ci indica sostanzialmente il punto di partenza. Noi partiamo da quello che è un'esigenza informativa. L'esigenza informativa di solito si riflette in quelli che sono dei costrutti misurabili. I costrutti sono sostanzialmente dei concetti di alto livello, abbiamo appena detto, a cui dobbiamo far corrispondere degli indicatori che siano in grado di quantificare i costrutti. Normalmente il costrutto misurabile si riferisce a una o più entità. Le entità hanno potenzialmente molti attributi che noi possiamo caratterizzare. E quindi le misure di base essenziali sono sostanzialmente dei valori che vengono assegnati in maniera oggettiva a degli attributi di entità. Ovviamente io posso andare a prendere più misure di base raccolte direttamente osservando delle entità e combinandole tramite quelle che sono delle funzioni di misurazione in misure più complesse. Ovviamente una volta che ho la misura devo andare a renderla leggibile, interpretabile e comprensibile. Per cui normalmente una misura, unità, un modello che mi permette di interpretarlo, dei criteri che mi dicono che cosa è buono o cosa non va bene, forma quello che è un indicatore. Gli indicatori poi, una volta che sono stati calcolati, possono essere presentati. E qui entra in gioco soprattutto la parte di visualizzazione. Per andare a formare, magari mettendone più di uno, quelli che sono dei prodotti informativi. Prodotti informativi che servono per andare a rispondere alle esigenze informative che erano il punto di partenza. Ecco alcuni esempi di misure. Ad esempio, avendo l'entità persona e l'attributo età, io posso andare a identificare diverse misure. Ad esempio, gli anni dalla nascita oppure i mesi dalla nascita. Questi sono due modi diversi di andare a misurare, quantificare, caratterizzare lo stesso attributo della persona. Anche le linee di codice sorgente e la loro lunghezza possono essere caratterizzate in maniera diversa. Quindi, dato un'entità e un attributo, io posso identificare molte misure alternative. È anche vero il contrario. È anche vero che io posso avere diverse misure per andare a caratterizzare entità e attributi diversi. Quindi, in linea di principio, ho una relazione molti a molti. Che cos'è che caratterizza una misura? Sostanzialmente, il poter rispondere a un'esigenza informativa. Quindi, una misura e il suo metodo di raccolta devono essere specifici per quella che è l'esigenza informativa. Altrimenti, io posso andare a misurare, almeno formalmente, la stessa cosa per andare a descrivere degli attributi che sono potenzialmente molto diversi. Abbiamo descritto un paio di tipi di misure, quelle di base e quelle derivate. Quelle di base sono raccolte direttamente andando a osservare le entità e i loro attributi. Quelle derivate di solito vengono calcolate a partire da misure di base. Un'altra distinzione importante è quella tra misure interne ed esterne. La definizione non è esattamente intuitiva, perché le misure interne sono le misure che io posso andare a raccogliere andando a osservare l'oggetto in quanto tale, in maniera statica. Le misure esterne, invece, devono essere raccolte andando a osservare l'entità, non in maniera isolata, ma bensì inserita in un contesto, nel suo ambiente. Per cui, ad esempio, per un software io posso tranquillamente andare a vedere qual è la lunghezza del suo codice sorgente ma andando semplicemente a contare i rigli dei codici. Per un prodotto software io posso andare a valutare la sua affidabilità soltanto andando a osservarlo durante l'esecuzione e andando a contare il numero di difetti che possono essere misurati. Un'ulteriore distinzione è tra le misure oggettive e soggettive. In linea di principio le misure dovrebbero essere tutte oggettive, ma in alcuni casi è ovvio che non è così immediato, per cui è necessario andare a accettare come misure anche misure che abbiano un certo grado di soggettività. E' fondamentale però sapere che c'è un grado di soggettività all'interno della misura in modo da poter tenerne conto quando si valutano poi i risultati. Come facciamo a raccogliere le misure? Come facciamo a sapere che una misura che raccogliamo è corretta? Qui ci viene in aiuto quella che è una teoria della misura. Storicamente le misure si sono evolute nel tempo andando a descrivere in maniera via via sempre più sofisticata quelli che sono dei fenomeni fisici. Se pensiamo a un esempio molto semplice e noto da tanto tempo che è la temperatura di un liquido, quale ad esempio l'acqua, in tempi molto remoti c'era semplicemente la capacità di dire che un liquido è più caldo di un altro. Nel 1600 con i primi termometri c'era ancora più caldo di, perché la precisione della misura non era particolare, ma c'era comunque la possibilità di dire quanto fosse più caldo. Poi nel 1700 c'è stata la scala Fahrenheit e poi quella centigrada. che è ancorata a due eventi ben definiti, quindi il ghiaccio che fonde e l'acqua che bolle. E infine successivamente la scala Kelvin che ci dà una misura di temperatura assoluta. Quindi l'idea è che le scale di misura, diversi modi di misurare dei fenomeni rispecchiano anche quanto noi siamo in grado di descrivere e comprendere nel dettaglio il fenomeno che vogliamo andare a misurare. La teoria della misura sostanzialmente ci fornisce una base scientifica per capire quando noi abbiamo una misura definita in maniera propria, come possiamo andare a trattare le misure, quali affermazioni possiamo fare sulle misure che abbiamo raccolto e andare a capire qual è una misura appropriata dato un certo tipo di fenomeno che noi conosciamo e quali sono le operazioni di elaborazione dati, statistiche che noi possiamo applicare a queste misure. Ci sono alcune varianti di teoria della misura ma sostanzialmente tutte si riferiscono alla teoria della misura di base che è stata definita da Stevens nel 1946. Che cosa dice questa teoria? Sostanzialmente ci dà una serie di elementi. Il concetto fondamentale nella teoria della misura è quello di scala di misura. Una scala di misura è sostanzialmente definita da tre elementi fondamentali. Quello che è un sistema empirico che sostanzialmente consiste in un insieme di entità, i loro attributi e una relazione che c'è tra gli attributi di questa entità per cui l'acqua più o meno calda, persone più o meno alte un sistema formale in cui abbiamo le misure i valori, normalmente dei numeri e delle relazioni formali ad esempio maggiore di e un mapping che fa corrispondere delle attributi nel sistema empirico a misure nel sistema formale. Quindi nel nostro sistema empirico sostanzialmente noi abbiamo le entità e le relazioni che noi possiamo osservare ad esempio Fred è più alto di Joe quindi l'entità che noi andiamo a osservare sono le persone e la caratteristica l'attributo che vogliamo caratterizzare è la loro altezza. Potenzialmente possiamo anche avere delle operazioni che possiamo eseguire su questi oggetti per cui ad esempio se parliamo di lunghezza possiamo mettere di fila due elementi e quindi possiamo sommare le lunghezze. Dal sistema empirico noi vogliamo passare a un sistema formale e questo lo facciamo tramite è un'operazione di corrispondenza di mapping che prende un'entità il suo attributo e gli fa corrispondere un valore nel sistema formale quindi sostanzialmente rappresenta quello che è un omomorfismo. Schematicamente se noi abbiamo due entità le due persone Joe e Fred l'attributo che ci interessa è l'altezza e la relazione che vogliamo andare a rappresentare è il fatto che un'entità abbia un'altezza maggiore dell'altra quindi è più alto di io posso dato un'entità andare a fargli corrispondere una misura che caratterizza la sua altezza l'altra entità faccio corrispondere a un'altra misura e poi sostanzialmente faccio corrispondere alla relazione più alto di la relazione maggiore tra numeri reali quindi faccio corrispondere alle persone dei numeri reali e garantisco che la relazione più alto di sia mappata nella relazione matematica maggiore di il fatto che esista questa corrispondenza quindi che tutte le relazioni che esistono nel sistema empirico si ritrovino poi nel sistema formale e non ci siano nuove relazioni è sostanzialmente quella che si chiama la condizione di rappresentazione ed è ovviamente l'elemento fondamentale che ci garantisce di avere una misura ammissibile quindi noi abbiamo una misura ammissibile quindi valida per una certa un certo attributo di alcune entità se vale la condizione di rappresentazione per cui volendo esprimerlo in maniera formale noi abbiamo che una scala è data da una tripletta in cui abbiamo un sistema empirico un sistema formale e una funzione di mapping il sistema empirico include un insieme di entità e una relazione 3ds il sistema formale include un insieme di valori molto spesso i numeri reali ma potrebbero anche essere altri insiemi e una relazione matematica la funzione di mapping sostanzialmente fa corrispondere a ogni entità del sistema empirico un valore nel sistema formale tale che se esiste una relazione tra A e B nel sistema empirico allora deve esistere la stessa relazione formale tra la misura di A e la misura di B nel sistema formale ovviamente non esiste un'unica misura dato un'entità e un attributo di questa entità che io voglio andare a caratterizzare ne esiscono più di una per cui dobbiamo anche andare a immaginare la possibilità di poter trasformare una misura in un'altra immaginate semplicemente le misure di lunghezza o di altezza io posso effettuare le misure in centimetri in metri in pollici in spanne in tanti modi diversi ragionevolmente se la procedura è corretta io ho tante misure che sono valide perché preservano in maniera fedele una relazione empirica in una relazione formale se tutti questi sono validi esiste una trasformazione che è in grado di farci passare da una misura da una scala di misura a un'altra e queste sono le trasformazioni in generale quando io ho un insieme di misure ammissibili per una certa caratteristica un attributo di un'entità tutte queste misure possono essere convertite l'una nell'altra tramite quella che è una trasformazione ammissibile in generale l'idea di base che sta dietro questa teoria della misura è che quanto più ampia è la scelta di possibili misure per una data caratteristica tanto più vaga è la nostra comprensione del fenomeno e quindi ho una scala che sostanzialmente è meno ricca quindi se ho delle trasformazioni che sono molto ristrette tra diverse misure ammissibili significa che io ho una descrizione molto più precisa di quello che è il fenomeno che voglio andare a misurare per cui in generale si parla di ricchezza del sistema di relazioni che possono essere più o meno complesse più complessa è il sistema di relazioni più è necessaria una scala sofisticata e queste scale più sofisticate hanno un insieme di trasformazioni quindi un insieme di misure ammissibili più ristretto esempio andiamo a vedere un sistema di relazioni empiriche in cui le entità sono le auto e l'attributo è la loro categoria per cui abbiamo la C1 e la 500 che stanno nella stessa categoria utilitarie la Stelvio è un SUV invece Hurricane è una sport vehicle quindi una macchina sportiva è ovvio che io posso chiamare queste utility vehicle utilitarie macchinine macchinone super super macchine posso dare dei nomi a piacere posso inventarmi qualunque nome purché sia diverso e questo è una misura valida di questo sistema empirico un sistema di relazioni empiriche un po' più ricco è quello in cui io vado a misurare quello che è il consumo è ovvio che il consumo lo posso esprimere in alcuni modi litri al chilometro centilitri al chilometro galloni al chilometro galloni al miglio alla fin fine ho un insieme ristretto di valori che io posso andare a utilizzare per andare a descrivere quello che è il consumo volendo posso avere un sistema di relazioni ancora più ricco e molto più preciso che è quello che caratterizza il prezzo in questo caso in questo caso il sistema di relazioni è fisso io ho un prezzo e quello è ben definito l'unica cosa che posso fare al massimo è passare da una valuta all'altra moltiplicando per un fattore di conversione ma null'altro il risultato è sostanzialmente quello passo da euro a dollari ma sostanzialmente le relazioni restano tali e quali quindi vediamo che ci sono diverse ricchezze diverse modalità di misura nella teoria della misura di Stevens sono state definite una serie di scale predefinite che si chiamano scale di misura che sostanzialmente ci danno una serie di tipologie di scale che sono caratterizzate da quanto siamo in grado di rappresentare sistemi di relazioni empiriche più o meno ricchi le scale che normalmente andiamo a identificare sono queste cinque nominale ordinale intervallo rapporto e assoluto dove la nominale è la meno ricca o la più semplice e l'assoluta è la più ricca oppure la meno semplice queste scale sono caratterizzate dal poter rappresentare dei sistemi di relazioni empirici più o meno complessi quindi più ricca la scala più è in grado di rappresentare sistemi empirici di relazioni complessi vediamo che cosa sono in grado di rappresentare queste cinque scale nella scala nominale sostanzialmente io sono in grado di mettere gli elementi del mio sistema empirico all'interno di un sistema di classificazione un po' come dicevamo prima il tipo di auto la categoria dell'auto niente di più semplicemente data un'auto gli assegno il suo tipo la sua categoria è ovvio che in un sistema empirico come questo io invece di chiamarla citycar la posso chiamare utilitaria o qualunque altro nome mi venga in mente quindi capite che io ho una scelta amplissima di misure alternative perché perché sostanzialmente il sistema di relazioni empirico è molto molto semplice mette in una serie di categorie nulla di più altro esempio se io ho l'entità persona e come attributo ho la sua origine che potrebbe essere italiana europea o esteroeuropea posso ad esempio inventarmi una funzione di mapping che assegni 1 alle persone che sono italiane 2 a quelle europee e 2 e 3 scusate a quelle extraeuropee però nulla mi vieta invece di assegnare 1 2 3 di assegnare 101 3,1 e 5 oppure i e e x questa grande libertà è data dal fatto che il sistema di relazioni empiriche è relativamente semplice quando ho delle misure che sono raccolte utilizzando una scala di tipo nominale che cosa posso fare in termini statistici di operazioni per andare a sintetizzare le informazioni beh l'unica operazione che posso fare è andare a contare quindi posso andare a calcolare la frequenza di entità che ricadono in ciascuna delle categorie e volendo posso andare a volendo usare una sintesi massima andare a calcolare quella che è la moda ovvero qual è la categoria che è la frequenza più elevata la scala immediatamente successiva che quindi è in grado di rappresentare delle relazioni empiriche un pochettino più complesse e articolate è quella ordinale in cui le entità non solo sono messe in una serie di classi ma queste classi sono ordinate quindi esiste una relazione di ordine totale sugli elementi del nostro sistema empirico basato su quelli che sono i loro attributi a questo punto io non posso dare dei nomi a caso dei valori a caso alle mie categorie devo garantire che l'ordine che io ho nel mio sistema empirico venga preservato nel sistema formale quindi ho un'ampia scelta un po' meno di quella della scala nominale per cui ad esempio io posso andare a definire una scala che mi assegni alle diverse auto quello che è il livello di consumo di carburante basso medio alto o molto alto è ovvio che l'importante è che questi restino in ordine quindi potrei dire 1 2 3 1 2 10 ok con questo livello di dettaglio io posso andare a scegliere tante codifiche alternative con il vincolo che mantengano l'ordine una scala ordinale si usa molto spesso per andare ad esempio a misurare le risposte a delle domande soprattutto in questionari psicometrici psicometrici dove ci sono normalmente delle affermazioni a cui chi risponde al questionario deve andare a esprimere il livello di accordo quindi completamente in disaccordo per lo più in disaccordo per lo più in accordo e completamente in accordo questo è un esempio di scala questo tipo di scala di solito si chiama Likert per cui io posso andare a segnare i valori da 1 a 4 a questi 4 livelli di accordo ma potrei anche andare a assegnare i valori che vanno da meno 2 meno 1 1 e 10 questo è assolutamente legittimo perché quella serie di valori mi preserva l'ordine capite che se io nel mio sistema empirico non sono in grado di discriminare tanto più di un ordine quindi se qualcosa è più o meno in accordo con i miei pensieri è ovvio che non posso dare una misura precisa tutte le misure sono alternative quindi il fatto che io abbia tante alternative mi rappresenta proprio quell'incertezza che ho nella comprensione del fenomeno che voglio andare a misurare che cosa posso fare in termini di operazioni statistiche con una scala di tipo ordinale oltre a quello che parteggevo già con la scala nominale posso andare a mettere in ordine e quindi posso andare a fare una classifica fare un rank e posso andare a calcolare quelle che sono mediane e quantili ci torneremo parlando di aspetti statistici la scala immediatamente più articolata e complessa di quella ordinale è quella che si chiama intervallo sostanzialmente è una scala che permette di andare a rappresentare sistemi empirici in cui la relazione sia una relazione che mi dà sia l'ordine che la differenza la distanza tra le scale sostanzialmente la relazione è quella che è una distanza da un punto di riferimento esempio l'anno di prima produzione di introduzione di questo modello 2015 per la C1 2015 anche per la 500 17 per la Stelvio e 2016 per la Huracan cosa possiamo dire di questo possiamo dire che c'è un ordine che il tempo che è passato dall'introduzione della 500 a quello della Huracan è lo stesso tempo che è passato da quello della Huracan a quella dello Stelvio quindi è un po' di più dell'ordine ho anche la capacità di andare a capire se le distanze sono più o meno grandi però io questa codifica che è espressa con gli anni del calendario gregoriano la potrei esprimere che so con gli anni del calendario cinese e a questo punto essendo un calendario lunare magari la distanza varia però l'idea è che se passa un anno da uno all'altro passerà un anno anche tra gli altri quindi lo posso misurare in mesi potrei andare a togliere il 2-0 davanti quindi considerare soltanto le decine e le unità dell'anno quindi ho tante alternative l'importante è che la distanza 0 in questo caso 1 in questo 2 in quest'altro resti sostanzialmente quella avendo questo tipo di scala le trasformazioni che io posso fare sono tutte trasformazioni di questo tipo quindi la nuova misura la posso calcolare dalla vecchia misura moltiplicata per un fattore e sommata a una costante queste sono quelle che si chiamano trasformazioni affini che statistiche posso andare a effettuare con una scala di tipo intervallo oltre a quelle che ho fatto per che potevo fare per la scala di tipo ordinale posso andare a fare somme differenze e divisioni per numeri scalari non posso dividere un valore per l'altro cioè torniamo qui non posso andare a fare rapporto tra 2017 e 2015 perché quel rapporto può cambiare 2017 su 2015 è molto diverso rispetto al caso in cui io contassi per dire soltanto l'unità quindi 7 quinti quindi posso andare a fare le differenze ma non posso fare dei rapporti di conseguenza le statistiche che posso andare a calcolare sono la media aritmetica e la varianza la scala che permette di andare a rappresentare relazioni impieghe ancora più complesse è quella che si chiama scala ratio o rapporto in questo tipo di scala esiste il concetto di zero quindi nel mio sistema di relazioni empiriche esiste il concetto di zero quindi normalmente io vado a misurare una qualche quantità in termini di incrementi basati su quella che è una qualche unità di misura quindi io posso fare sostanzialmente delle misure sapendo che c'è un concetto di zero il concetto di zero è qualunque è lo stesso qualunque misura o qualunque scala io vado a utilizzare se pensate che so le lunghezze una lunghezza è zero sia che io la misuri in centimetri in pollici in punti in spanne o in qualunque altra unità di misura un esempio è il prezzo delle nostre auto dove ovviamente c'è il concetto di prezzo zero un'auto che viene regalata gratuita come prezzo zero e quel prezzo è lo stesso sia che io lo misuro in euro in dollari in franchi in dollari australiani in peso in RAND o qualunque moneta voi vogliate utilizzare nel caso di misure raccolte su una scala di tipo rapporto oltre alle operazioni che facevo già prima posso andare a fare la divisione quindi posso fare il rapporto tra un valore e l'altro per cui nel caso della nostra scala che assegna i prezzi alle nostre auto possiamo andare a dire che ad esempio l'asteglio costa circa 5 volte la 500 faccio il rapporto 45 diviso 14 e questo ha perfettamente senso ma ha senso andare a fare rapporti tra delle misure soltanto se sto misurando una scala in cui esiste lo zero e lo zero non deve esistere soltanto nel sistema empirico scusate nel sistema formale perché se ho un numero gli zeri esistono sempre tra i numeri ma lo zero deve esistere anche nel sistema empirico di redazioni ultimo passaggio il livello più alto delle scale è quella che si chiama assoluta che sostanzialmente consiste nell'andare a misurare degli elementi se io voglio sapere quante persone hanno guardato questo video le posso contare e non c'è un'unità di misura sono persone e quindi ho un'unica misura quel numero è esclusivamente quello non è che misuro l'altezza delle persone che può essere in centimetro in pollici qui è un conteggio di entità di occorrenze di eventi sostanzialmente in questo caso la scala mi dà un'unica misura quindi un'unica misura ammissibile per quella particolare caratteristica dell'entità quindi riepilogando la scala nominale è quella che mi permette di andare a classificare elementi e le trasformazioni che io posso fare da una misura ammissibile all'altra sono tutte le trasformazioni che mi fanno corrispondere un valore un nome di una categoria o un codice di una categoria a un altro nel caso della scala ordinale io posso andare a trasformare una misura in un'altra usando qualunque trasformazione monotona crescente nel caso della scala di tipo intervall io posso andare a trasformare le misure da una all'altra normalmente le misure di tipo intervall mi permettono di andare a effettuare delle misure in un sistema empirico dove esiste un elemento di riferimento che però non è lo zero immaginate le date esiste una data convenzionale l'anno zero per il nostro calendario ma in altri calendari lo zero è in un altro istante di tempo quindi non è un concetto di zero assoluto e condiviso ma è un concetto di zero punto di riferimento che è puramente convenzionale abbiamo poi la scala ratio in cui andiamo a misurare delle entità e in queste misure abbiamo un concetto di zero che è univoco e in questo caso io posso passare da una misura all'altra semplicemente andando a moltiplicare per un fattore di scala infine nel caso delle misure su scala assoluta la trasformazione è la trasformazione identica perché io posso avere un'unica possibile misura corretta e ammissibile cosa me ne faccio tutte queste scale beh l'usare e capire che scala sto usando è molto utile perché mi permette di andare a capire quali sono delle affermazioni che hanno o meno senso rispetto alle misure che ho raccolto in generale la regola che io seguo è la seguente quando io faccio un'affermazione su le misure raccolte con una scala questa affermazione ha senso se la sua verità non cambia passando da una misura ammissibile all'altra esempio se io faccio un'affermazione sull'altezza di una persona questa affermazione dovrebbe essere l'altezza di una persona l'altezza di più persone questa affermazione dovrebbe restare vera o falsa sia che io misuri l'altezza delle persone in centimetri in metri in pollici in piedi o in qualunque altro modo esempio quale di queste affermazioni è corretta? allora Fred è due volte più alto di Jane l'altezza abbiamo visto è una misura su una scala di tipo rapporto perché l'altezza ha un concetto di zero per cui passando da una misura all'altra semplicemente è moltipico per un fattore di conversione quindi se la misura se le due misure in un in un sistema secondo una scala stanno una al doppio dell'altra moltiplicando entrambe per lo stesso fattore di conversione restano comunque una al doppio dell'altra quindi questa è un'affermazione che è assolutamente corretta e ha senso la temperatura oggi a Tokyo è due volte quella di Londra è un'affermazione corretta? cosa sono le temperature? le temperature sono misurate su una scala di tipo intervallo perché? perché lo zero è puramente convenzionale lo zero Celsius e lo zero Fahrenheit sono diversi lo zero Kelvin è ancora diverso quindi io ho un valore convenzionale e la temperatura mi misura la distanza da quel valore convenzionale per cui se io faccio la misura in gradi Celsius e ho un certo rapporto nel momento in cui la trasformo in gradi Fahrenheit o Kelvin il rapporto tra quei valori cambia completamente la differenza in temperatura tra Tokyo e Londra oggi è due volte quella di ieri ecco questa invece c'è un'affermazione che ha senso perché questo avviene per tutte le misure di tipo intervallo la differenza tra due misure di tipo intervallo sostanzialmente è una misura di tipo rapporto quindi se io ho due misure base di tipo intervallo e ho una funzione di misurazione che le combina facendone semplicemente la differenza il risultato è una misura che si basa su una scala di tipo rapporto e su una scala di tipo rapporto io posso tranquillamente andare a effettuare delle operazioni di divisione di conseguenza nel momento in cui ho identificato qual è la scala delle misure che sto trattando sono anche in grado di capire quale statistiche posso andare a calcolare per cui se voglio andare a calcolare la tendenza centrale di una scala di tipo ratio posso utilizzare la media la mediana o la moda ma se io ho una scala nominale l'unica tendenza che posso andare a calcolare è la moda se è ordinale io posso andare a usare la moda o la mediana ma non la media a questo punto domanda per voi che ascoltate questa video lezione secondo voi i vostri voti in trentesimi quelli che vi vengono assegnati qui all'università su che tipo di scala sono misurati ragionatevi fate le vostre pensate e ne parliamo nella prossima lezione quella interattiva ancora due parole a questo punto su il passaggio successivo abbiamo detto che data una esigenza informativa vi rimetto lo schema da cui eravamo partiti all'inizio data un'esigenza informativa io vado a costruirmi delle misure eventualmente le aggrego con delle funzioni di misurazione e infine vado a costruire quelli che sono degli indicatori che cos'è un indicatore un indicatore sostanzialmente è un qualcosa che prende una misura e mi dà il contesto e un modello di base dei criteri per poterla interpretare in maniera corretta quindi gli indicatori sostanzialmente sono basati su una misura ma mi danno tutto il contesto le informazioni aggiuntive per poterla andare a leggere capire interpretare e dare un significato normalmente quando io ho un indicatore lo vado a caratterizzare con una serie di dettagli quello che vediamo qui è uno schema tipico di come posso descrivere un indicatore normalmente gli do un nome un obiettivo che è legato a quella che è l'esigenza informativa senza avere un obiettivo in mente io posso avere una misura ma non sono in grado di interpretarla in maniera corretta ricordatevi sempre senza un obiettivo chiaro una misura non ci dice nulla cambiando l'obiettivo la stessa misura lo stesso valore può essere interpretato in maniera completamente diversa e poi la definizione della misura come è calcolata qual è l'unità di misura qual è la scala e come eventualmente posso aggregare tante misure assieme e importantissimo come interpreto la misura più è alta meglio è ci sono dei valori di soglia ci sono più soglie per cui va bene sopra un certo valore oppure sotto un altro e poi l'indicatore mi deve dire anche da dove arrivano i dati questo perché io devo avere la capacità di capire dove i dati arrivano in modo da essere in grado di valutare l'attendibilità di questo indicatore questo è utile ne parleremo più avanti quando parleremo di qualità dei dati l'interpretazione è fondamentale perché i numeri assoluti non ci dicono niente quando devo andare a interpretare un valore normalmente ho alcune alternative posso andare a valutare le mie misure confrontate con alcune definizioni che ho di partenza specifiche o alcuni requisiti che mi vengono dati normalmente ho un obiettivo oppure posso andare a confrontare le misure con quelli che sono dei benchmark ho una serie di altre analogie e quindi mi confronto con quello che succede in giro ho la possibilità di andare a confrontare un valore in una serie temporale quindi sono in grado di capire se un valore una misura è in crescita in decrescita o su un orizzonte più temporale se è stabile oppure oscilla o altro oppure posso andare a riferirmi a quelle che sono le norme di una popolazione ovviamente però io devo avere a disposizione una popolazione in cui andare a inserirmi sono in media sopra la media sotto la media vicino al top nel top 5% nel top 10% questi sono i quattro modi principali in cui io posso andare a interpretare una misura molto spesso quando io ho un'interpretazione ho anche quello che si chiama un rating per cui sono in grado di andare a dire se i valori della mia misura del mio indicatore sono accettabili superano quello che mi aspettavo oppure sono inaccettabili per cui una volta che ho identificato il meccanismo in cui tramite cui posso andare a interpretarlo il passo ulteriore è di andare a definire quelli che sono in base a quelli che erano gli obiettivi di partenza le esigenze informative originali definire quelli che sono delle soglie che mi permettono di dare un giudizio più ampio di interpretazione per poter trarre delle conclusioni su quelle che sono le mie misure infine molto spesso quando io ho delle misure voglio poterle aggregare se io ho il numero di pazienti o il numero di posti letto in Italia io vorrei poterli sapere in totale ma magari anche aggregati per regione per provincia per comune quindi molto spesso non voglio la misura unica quindi un numero unico ma voglio poterla andare ad aggregare in base a qualche criterio e ci sono tantissimi criteri in base a cui andare ad aggregare per finestre temporali per mese per semestre per settimana secondo quella che è l'organizzazione gerarchica di una qualche organizzazione o altro per cui non so le vendite in Italia in Europa Nord America Sud America eccetera in base a quello che è un prodotto o una categoria di prodotti in base a quello che è un cliente o una categoria di clienti in base a quelle che sono le attività di un processo se sto misurando una serie di attività magari mi interessa sapere ogni attività quanto costa quanto tempo richiede oppure posso aggregare in base al progetto in generale data una metrica quando io voglio andare a costruire un indicatore è bene che abbia in mente quali sono i criteri di aggregazione quelle che vengono spesso chiamate delle dimensioni una volta che io ho costruito un indicatore un'operazione che è importante poter fare è quella di andare a valutarne quella che è la robustezza la robustezza viene valutata in base a diversi criteri quelli che vi propongo qua sono la comprensibilità il costo di elaborazione la significatività la frequenza e il livello di strutturazione la comprensibilità sostanzialmente mi dice quanto è facile andare a capire il significato della misura dell'indicatore il costo di elaborazione mi chiede quanto mi costa andare a raccogliere questa misura immaginate che un datore di lavoro voglia sapere esattamente cosa fanno i suoi impiegati e quindi chieda a questi con una frequenza di 5 minuti di andare ad annotare su un quadernetto quello che stanno facendo questo vuol dire che ogni 5 minuti le persone interrompono il proprio lavoro aprono il quadernetto prendono la bio scrivono chiudono la bio chiudono il quadernetto e ritornano a fare quello che volevano fare quindi ogni 5 minuti 30 secondi sono persi per andare a raccogliere questa informazione il costo di questa raccolta rispetto ai vantaggi che posso avere e l'impatto che ha sul lavoro sono significativi ecco ogni tanto è bene avere in mente questo esempio paradossale per capire se vale la pena andare a spendere del tempo e delle risorse per raccogliere un'informazione soprattutto in funzione di quelli che potrebbero essere i vantaggi dall'avere questa informazione quindi prima di iniziare a raccogliere le informazioni è bene capire quanto costa e quali sono i potenziali benefici se il costo supera i benefici probabilmente non vale la pena la significatività mi dice sostanzialmente quanto data la mia esigenza informativa iniziale questo indicatore è in grado di coprire e di darmi un contributo magari non è sufficiente un solo indicatore magari ne servono più di uno però è importante che questo indicatore sia nel contesto di quelle che sono le esigenze informative di partenza la frequenza è quanto spesso questo indicatore varia perché se è un indicatore che varia ogni 5 minuti i costi di elaborazione di raccolta sono pesanti se è un indicatore che varia lentamente è molto meglio è molto più semplice da gestire quindi devo avere anche indicatori che abbiano una variabilità che sia accettabile che sia sostanzialmente ragionevole nel contesto in cui io lo voglio utilizzare infine quella che è la strutturazione del mio indicatore ovvero quanto questo indicatore è in grado di effettivamente intercettare degli aspetti fondamentali nel fenomeno che voglio osservare e quindi quanto io possa andare a affidare le mie scelte su questo indicatore quanto sia poco ambiguo la sua significatività a volte si dice che gli indicatori devono essere smart devono essere specifici per lo scopo che mi sono dato devono essere misurabili quindi devo avere la possibilità effettivamente di raccogliere le misure deve esserci una procedura deve essere facile e non estremamente costosa achievable se io ho un indicatore e mi sono imposto un obiettivo per questo indicatore quell'obiettivo deve essere ragionamente raggiungibile altrimenti è un indicatore puramente diciamo ornamentale poco utile deve essere rilevante e quindi deve andare a catturare quelle che sono effettivamente le proprietà del fenomeno che voglio osservare e poi andare a governare e timely ovvero deve darmi le informazioni in un tempo che sia ragionevole e utile al fine di poter prendere le misure a questo punto se noi abbiamo deciso di avere un indicatore o più indicatori perché abbiamo delle esigenze informative quello che possiamo fare è andare a mettere in piedi un processo di misurazione un processo di misurazione normalmente nasce da delle esigenze tecniche di controllo di un qualche processo di miglioramento che mi generano delle esigenze informative a partire delle esigenze informative io posso andare a iniziare il mio processo ovviamente in generale devo avere dei requisiti generali e avere qualcuno che nella mia organizzazione nel contesto in cui vado a fare la misura sostanzialmente supporti lo sforzo di raccogliere delle misure il punto di partenza per ogni attività di misura sono esigenze informative che mi permettono di andare a pianificare la misura quindi decidere che misura indicatori raccoglie definire la modalità definire il processo per andare a raccogliere le misure e poi posso effettuare la misura il risultato dell'operazione di misura sono quelli che abbiamo chiamato prodotti informativi che vengono forniti a chi deve prendere decisioni deve gestire un processo in modo che possa agire ma questi prodotti informativi vengono anche utilizzati per andare a fare quella che è una valutazione la valutazione di quanto è andata bene l'operazione di misura questa valutazione si basa sui prodotti informativi stessi e su quello che è il feedback da chi queste informazioni queste misure e questi indicatori ha utilizzato il risultato di questa valutazione per cui io faccio la misura raccolgo do le informazioni a chi le deve usare dopodiché chi le deve usare mi dice andavano bene facevano schifo sulla base di quanto mi è stato detto e sulla base dei prodotti informativi che posso io stesso andare ad analizzare posso andare a definire azioni di miglioramento che mi permettono di ripianificare la prossima campagna di misura inoltre la valutazione di solito viene immagazzinata in quella che è una base di esperienza nel caso più semplice un documento online che tutti possono consultare e che mi permette in futuro anche a distanza di tempo di andare a dare le informazioni di base per poter pianificare in maniera corretta per poter eseguire nel migliore dei modi le attività di misurazione quindi la base di esperienza sarà utile non soltanto per quella specifica attività di misurazione ma in maniera molto più alta molto più ampia per cui scopro che la misurazione di un certo tipo di entità è più facile in un certo contesto e quindi se dovrò andarla a misurare per altre esigenze informative avrò già quel tipo di informazione e quindi potrò usufruirne per andare a definire le misure nel miglior modo possibile perché andare a misurare? beh l'idea base che guida la misurazione è ciò che viene misurato viene fatto se io voglio andare a migliorare qualcosa devo per forza misurarlo altrimenti non so se lo sto migliorando le operazioni fatte intervenendo su qualcosa senza una base di misurazione lasciano il tempo che trovano perché alla fine ho solo la sensazione che ho migliorato o eventualmente peggiorato quello che succedeva se non ho una misura concreta è difficile andare a quantificare e a capire quanto bene sia andata qualunque attività attenzione però che esiste anche quella che si chiama la legge di Campbell ovvero quanto più un indicatore quantitativo che ha un impatto sociale è usato per prendere decisioni in ambito sociale tanto più questo indicatore sarà soggetto a pressioni per essere corrotto e soprattutto è atto a essere distorto e infine a corrompere il processo sociale stesso che inizialmente doveva misurare in generale ogni volta che vado a definire un qualcosa che misura le persone e poi viene utilizzato per andare a prendere decisioni vado a modificare il comportamento e vado sostanzialmente a ottenere un indicatore che potenzialmente è corrotto voglio sapere il reddito delle persone per decidere se segnare il reddito di cittadinanza beh se voglio il reddito di cittadinanza io evito di denunciare il mio reddito tipico esempio di corruzione e distorsione dell'indicatore quindi alla fine quello che era un indicatore che mi serviva per prendere decisioni sociali è corrotto e non può essere più utilizzato esiste un'altra legge che è quella di Goodhart che è ancora più sintetica e mi dice che quando una misura diventa un obiettivo cessa di essere una buona misura il fumetto che vediamo qua è abbastanza esplicativo per cui se io vado a misurare le persone che lavorano per me sul numero di chiodi che vanno a costruire questi mi andranno a costruire migliaia di piccolissimi chiodi però non sono quello che volevo io volevo avere i chiodi fatti bene ma tanti se invece cambio e vado a misurare in base al peso dei chiodi e beh avrò pochissimi chiodi enormi quindi in generale attenzione quando utilizzate delle misure per prendere decisioni perché potenzialmente possono andare a corrompere il processo che invece volete andare a governare quindi quello che si fa normalmente è di andare a definire tante misure diverse e cercando di utilizzare le misure non come elemento che guida direttamente le decisioni ma come uno dei tanti contributi che mi portano a prendere le decisioni in un contesto complesso altrimenti semplice misura semplice disastro che va a modificare il processo in un modo che io magari non avevo neanche immaginato prima direi che con questo ho concluso la panoramica su quelle che sono le misure come vengono utilizzate quali sono i criteri per andare a capire se una misura è buona quali sono le scale che posso usare per effettuare delle misure e infine come posso andare a costruire degli indicatori che mi diano la capacità di interpretare le misure che ho raccolto uno dei prossimi argomenti riguarderà la modalità con cui io posso prendere i risultati di queste misure e andare a sintetizzarli utilizzando quelle che sono gli strumenti base della statistica descrittiva un altro aspetto importante correlato alle misure è andare a valutare quella che è la qualità dei dati le misure che ho raccolto sono buone o cattive le posso usare sono affidabili deve esistere un qualche meccanismo che mi permetta di andare a valutare la qualità generale delle misure che ho raccolto dei dati in modo da poter poi utilizzarli essendo consci della loro bontà o meno che ho raccolto che ho raccolto Grazie a tutti.